Salve a tutti, in questo video vediamo come battere Lili e Lilin della torre al nord, vi faccio vedere dove si trova, eccola qui. Abbastanza facilmente, diciamo, io sono di livello 44 a questo punto, non importa essere a livello 44, purché si abbiano i PAL di tipologia fuoco, poiché il PAL che utilizzerà Lili sarà di tipo erba, quindi ci sono due modi, o usate i PAL di tipo fuoco, ma se, come nel mio caso, ne avete solo uno di livello fuoco, è ottimo insegnare ad altri PAL le mosse più potenti di livello fuoco e abilitargliele per questo scontro. Quindi io ho il mio Reptairo, che manderò contro Lili e Lilin, e nel frattempo con il fucile, che non è male, riesco a fare un po' di danno, anche solamente per attirarla lontano da lui e cercare di massimizzare un po' la difesa di Reptairo e i suoi PV attirando il fuoco su di me. Comunque mirate sempre in alto a Lili, sempre in alto, se volete fare il massimo danno, con la vostra arma da fuoco. E niente, nel mio caso non è bastato Reptairo, ho dovuto usare un altro PAL, Mossandalux, ma ormai ce l'ha rimasto poco da fare, quindi anche senza le mosse di tipo fuoco ce l'ho fatta, ma se voi siete a un livello più basso e avete dei problemi, vi basta utilizzare mosse di tipo fuoco con PAL di livello fuoco il più potenziati possibile, ovviamente, tramite i vari macchinari e comunque la statua nel vostro accampamento per migliorare difesa, eccetera eccetera, lo sapete ormai come si fa. Un saluto. Un saluto. Un saluto.